Metodo è il secondo progetto che realizzo per MDF Italia. Mi è stato chiesto dall'azienda di realizzare un oggetto possibilmente iconico ed è così che sono partito da forme estremamente pure, ovvero il cerchio, e la mia idea è stata quella di fare incontrare più cerchi all'interno dello spazio e così è nata la forma. Volevo creare un qualcosa che potesse essere utilizzato in tutte le aree della casa, quindi dalla zona giorno alla zona notte, però anche un oggetto che può essere utilizzato nei grandi contract, quindi creando anche dei landscape, delle forme più complesse. Il Metodo è un prodotto realizzato interamente in lamiera di ferro, un materiale con il quale dialogo molto bene e mi sento a mio agio, nei colori del nickel nero, del grigio ombra e del bianco opaco. Il nome Metodo perché è disegnato secondo uno schema stilistico molto rigoroso, quindi secondo un metodo, il mio metodo, forme pure e lineari.